Come si è andato tutto bene? L'ultima bollina erano un po' ballerine, il comitato di regata si è tenuto leggermente più esterno rispetto al Monte Conero e in effetti non conveniva sempre e solo andare sotto terra. Bello comunque, più divertente, non c'era più bibordo da fare ma si lasciava spazio ai tattici di divertirsi. Ieri siamo stati sotto l'acqua dalla mattina alla sera, a parte qualche scampolo di mezzo sole, però insomma tutto bene, qua si sta bene, il Conero è un bel posto, tutto bene.